C'era anche il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ad assistere alla semifinale del torneo di Viareggio con i grifoncini di Sabatini opposti al Parma Intervistato nell'intervallo, il DG Rosso Blu ha così risposto ai microfoni di RaiSport, a livello giovanile è importante la crescita individuale, il risultato è un mezzo ha detto il calcio italiano deve migliorare dal punto di vista tecnico, seguendo le direttive del C.T. Mancini Spero che qualche nostro ragazzo possa arrivare in prima squadra Il torneo di Viareggio, deve essere rilanciato per rendere questa manifestazione sempre più internazionale, in campo, nel frattempo, il Genoa si guadagna la finalissima battendo per 3 a 2 il Parma, in una gara tiratissima e da cuori forti Rosso Blu avanti con Adamoli, esterno di proprietà della Juventus, ma il Parma la ribalta in poco più di 10 minuti Nella ripresa, la squadra di Sabatini trova il pari con l'ungherese Zabo e poi, a una manciata di minuti dal termine, arriva anche il gol partita di Cleonise per il 3 a 2 finale Mercoledì alle 15.00 allo Stadio Picco di La Spezia la finalissima